Alberto Bisin, New York University, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie a lei, buongiorno, piacere di essere qua. Senta il piacere assolutamente nostro, stavamo parlando appunto del piano Biden, dei dati macro che abbiamo visto poco fa, piuttosto positivi, bisogna dirlo. Questo piano da 2.300 miliardi è ciò di cui l'America ha bisogno in questo istante a suo avviso? È una parte certamente, nel piano c'è dentro un po' di tutto, però diciamo che sono anni che economisti e osservatori notano la decadenza del sistema di infrastrutture negli Stati Uniti e quindi almeno la parte del piano che agisce su quel punto, buona parte sui trasporti, è una cosa assolutamente positiva. Invece questa ipotesi di un incremento delle tasse per le aziende, naturalmente per finanziarlo, dal 21% al 28% che è stato un abbassamento che ha fatto Donald Trump, naturalmente la scorsa amministrazione. Come vede la reazione di tutte queste aziende che sicuramente saranno molto scontente, ma in particolar modo in questo momento, magari di difficoltà per quanto concerne gli utili e i ricavi, e soprattutto chi ha la forza al Congresso, i repubblicani o i democratici sotto questo punto di vista? Beh, insomma, è chiaro che non sarà facile far passare un aumento delle tasse, è anche chiaro che da qualche parte questi soldi vanno raccolti, queste spese vanno raccolte. In realtà anche l'aumento delle tasse non copre assolutamente l'intero ammontare del piano, quindi ci saranno questioni. Però, diciamo, da un punto di vista politico la situazione è abbastanza chiara. Secondo me Biden gradirebbe molto avere l'appoggio dei repubblicani al centro, perché questo gli permetterebbe di spostare anche la struttura del piano verso il centro, che è, diciamo, dove Biden sta meglio politicamente. Se i repubblicani continuassero invece a non farlo, cioè a opporre il piano su qualunque dimensione, ovviamente il suo supporto deve venire dalla sinistra del Partito Democratico, che significherebbe appunto aumento delle tasse e aumento della spesa. Sì, però a tantissime persone non piace la sinistra estrema del Partito Democratico. A suo avviso questo piano passerà al Congresso? Credo che passerà in maniera ridotta, ma passerà. Capisco che a molti non piace la sinistra del Partito Democratico, ma questo è proprio il punto. Cosa fanno i repubblicani del centro è cruciale. Biden l'altro giorno ha fatto una dichiarazione molto chiara. Il supporto o lo riceve al centro dai repubblicani o lo riceve alla sinistra dei democratici. In questo senso sta ai repubblicani scegliere. Invece per quanto riguarda le pressioni inflazionistiche, io glielo chiedo poi, naturalmente questo piano non sarà spalmato soltanto nel 2021, questo è un piano di lungo termine, un piano piuttosto importante, che dovrebbe essere rifinanziato grazie a questo aumento dell'età. Se in 15 anni quali sarebbero le pressioni inflazionistiche e se ci saranno effettivamente? C'è una grossa discussione tra gli economisti su questo. Non è solo il piano di infrastrutture. Il piano di infrastrutture in sé, essendo un piano di investimento, potrebbe non avere grosse ripercussioni inflazionistiche. C'è però tutta una parte del piano di aiuti di Biden, che comunque anche quello sono circa 2 mila miliardi di dollari, che va in aiuti e questo probabilmente... L'output gap, diciamo quindi la differenza fra quello che sarebbe stato GDP stimato, il PIL stimato e quello che realmente è stato a causa di Covid, la differenza è di circa 900 miliardi di dollari, gli interventi sono dell'ordine di 2 mila miliardi di dollari. Quindi è chiaro che c'è una pressione inflazionistica perché si spende più di quello che si è perso in GDP. Quindi questo in principio c'è, è chiaro che ci sia, molti economisti la evidenziano. La questione fondamentale è capire se, diciamo, si muovono le aspettative di inflazione, perché sono le aspettative di inflazione che generano poi le spirali inflazionistiche che generalmente ci preoccupano. Sono anni che nulla di simile succede ed è difficile dirsi se questo sarà sufficiente a generare. È chiaro che la pressione ci sia, che la pressione inflazionistica c'è. La questione è se si svilupperanno fenomeni seri o meno ed è molto molto difficile dirlo onestamente a questo punto. Assolutamente sì, perché effettivamente è la prima pandemia dove le reazioni dei governi sono simili a quelli che abbiamo visto. Quindi ultimissima domanda, non bisogna interpretare il rialzo dei rendimenti dei Treasuries necessariamente come pressione inflazionistica e al rialzo per forza? Beh no, insomma, non bisogna interpretarlo per forza, ma è chiaro che quella è un'interpretazione naturale in questo momento. Quanto questo proceda e quanto grave sia è ancora difficile dirlo. Che l'interpretazione più naturale sia quella, io credo sia vero. Ottimo, grazie mille ad Alberto Bisi, New York University. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie a lei, è sempre un piacere, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.